Partenza da Brento. Abbiamo intenzione di fare Monteduone, Montemario e dopo vediamo insomma dove arriviamo. Su partenza, giro nuovo. Dai ragazzi, un posto clamoroso. Lo so che uno dice, beh vabbè, dove sei? A Monteduone, però la merita veramente. Buongiorno. Il mio gruppetto, pochi ma buoni. Spettacolo. Abbiamo trovato questa roccia qua che sembra il viso di un uomo. È incredibile. La stessa fisionomia delle teste dell'isola di Pasqua. Davvero? Un tipo, un bion, però con un'etnimologia diversa. Si, si è smarcando. Si è smarcando. Si è bolognese. Si è voluto venire qua. Ma guarda che qua. Ho messo tante bolognese qua ma l'isola di Pasqua non ce l'hanno queste robe qua. Ho messo bolognese però. Sosta birrino con paesazzino. Oh, aspetta. No, mettiamo qua. E andiamo. Ma chi siamo? Ma che spettacolo. Guarda che rovina. La abbiamo le cime innevate. Piedine a strapiombo. Chi vuol provare l'esperienza, prima o poi la facciamo fare. grande Alberto. Allora, stiamo tornando dalla Via degli Dei, stiamo girando intorno, attorno a Montemario. il cinchiero che dovrebbe essere più facile del ritorno. Siamo in giro ormai due a due ore e mezza, ma i paesaggi che hanno portato via molto tempo, anche l'area sosta. I miei compagni là dietro. Oggi in pochi perché purtroppo dovevo testare sto ginocchio che un po' mi fa male. Per cui adesso vediamo di arrivare in fondo. Per adesso chilometri ancora 8 e 7, non tantissimi. Via. Via.